muore a 44 anni lo stimato amministratore daniele tagliolini a pesaro si tenta di riaprire il dipartimento materno infantile monsignor piero coccia si congeda dopo 18 anni da arcivescovo arriva la tirreno adriatico fra corsa e mostra delicata pantani nuove generazioni di tifosi la vl lancia la fan zone buona serata amici amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news il telegiornale di rossini tv la nostra emittente che è pronta un grande cambiamento dal 15 marzo lo vedete anche in grafica nella grafica che trovate sulla parte alta del teleschermo e dal 15 marzo si cambia si cambia canale rossini tv non sarà più sul canale 633 ma dal 15 marzo al 17 ci sarà un graduale passaggio verso il canale 80 una grande conquista che continueremo a ricordarvi in questi giorni per memorizzare questo nuovo canale rossini tv canale 80 dopo questo promemoria doveroso arriviamo alle notizie notizie che in questo venerdì 11 marzo apriamo purtroppo con una gravissima perdita quella di daniele tagliolini presidente di marche multiservizi ed ex presidente della provincia di peso robino nonché ex sindaco della sua pelio daniele tagliolini è scomparso ieri sera all'età di 44 anni in seguito ad una malattia che ha lasciato davvero sgomenta un'intera provincia che ne apprezzava l'umanità e la professionalità i marche multiservizi ormai da diversi anni sta improntando la sua azione sulla sostenibilità ambientale penso che questo possa rappresentare il giusto percorso per tutto il nostro territorio parole quelle di daniele tagliolini rilasciate a rossini tv lo scorso dicembre in una delle tante conferenze e iniziative di marche multiservizi l'azienda di cui tagliolini era presidente di cui era orgoglioso e con cui lavorava guardando sempre avanti da buon amministratore abituato a pensare all'innovazione e al lavoro di squadra con un territorio che amava profondamente da ieri sera però la provincia di peso rubino ha perso un grande uomo ancor prima che un eccellente amministratore daniele è morto alle 20 e 30 all'ospedale di rimini ad appena 44 anni se ne andato dopo un ricovero che ha visto improvvisamente precipitare quel brutto male che gli era stato diagnosticato l'estate scorsa chi lavorava al suo fianco racconta con commozione la straordinaria dignità con cui aveva affrontato quelle tumore allo stomaco lavorando e guardando sempre avanti commozione ma anche straziante stupore perché nessuno si aspettava che le cose precipitassero così da un giorno all'altro la notizia rimbalzata ieri sera attraverso i social di tanti coloro che lo conoscevano e che raccontavano di aver lavorato e programmato progetti con daniele tagliolini fino a pochi giorni prima dal sindaco riccia daniele vimini dall'essia morani a giuseppe paolini stupore sintetizzato dal fatto che proprio questa mattina era in agenda una conferenza stampa per un altro dei progetti di marche multiservizi conferenza immediatamente annullata per lasciare spazio alle lacrime prima di tutto quelle della moglie giovanna dei figli matteo adele e dei suoi genitori pietro e anna domani sabato 12 marzo alle 10 30 a peglio si terrà il funerale quella peglio di cui è stato sindaco uno dei ruoli ricoperti in 44 anni in cui tagliolini ha fatto tanto dipendente delle poste politico pd primo cittadino e poi primo presidente della provincia di peso urbino dopo matteo ricci all'indomani della riforma che spogliolente di tante risorse infine marche multiservizi con la quale coltivava già tanti altri progetti tanti ruoli tanta passione tanti legami con gli amministratori di un territorio ognuno dei quali lo ricorda prima di tutto come un amico daniele ci ha lavorato il suo fianco per anni e ho un ricordo di lui bellissimo che rimane stampato e impresso nella mia mente e chiaramente perdiamo il meglio perdiamo il migliore perdiamo l'essenza del territorio la vera forza della natura che vorrei ricordarlo tutti ha preso in mano la provincia quando tutti scappavano dalla provincia con orgoglio con determinazione ha portato avanti la sua la su con la sua capacità portata avanti tanti progetti e tante cose per il suo territorio certamente oggi anche le proloco di peso urbino perdono un pezzo importante di storia un pezzo importante che ha rappresentato veramente l'intero territorio e la nostra la nostra identità del nostro territorio e naturalmente anche tutto lo staff di rossini tv si unisce al cordoglio e alle condoglianze alla famiglia tagliolini per questa gravissima perdita ed ora cambiamo argomento era il marzo del 2020 quando venne chiuso il dipartimento materno infantile dell'ospedale san salvatore di pesaro convertito in presidio covid con il trasferimento di tutto il reparto nascite di marche nord all'ospedale santa croce di fano a due anni esatti si torna a chiedere la riapertura del dipartimento un argomento che torna sul tavolo del consiglio regionale dopo due anni di chiusura del dipartimento materno infantile dell'ospedale san salvatore di pesaro la riapertura del reparto torna sul tavolo del prossimo consiglio regionale di martedì a portarcelo un'interrogazione dei consiglieri del pd andrea biancani e michaela vitri alla luce della forte diminuzione dei contagi di un imminente 31 marzo che è stato collocato come data di uscita dall'emergenza pandemica e anche in considerazione di una mozione che un anno fa fu approvata all'unanimità dal consiglio regionale maggioranza compresa nel 2021 appena trascorso eccezione fatta per le 60 gravidanze di mamme con patologie covid non ci sono state nascite a pesaro con l'intero dipartimento materno infantile trasferito per il secondo anno al santa croce di fano e con tante partorienti che hanno preferito scegliere altri ospedali urbino ma soprattutto rimini in questi anni è aumentata di molto la mobilità passiva solo tra gli dati dicono che solo tra il 2021 e il 2020 c'è stato un aumento di circa il 20 per cento infatti si è passato da 170 a 200 parti che vengono fatti al fuori del nostro territorio regionale in gran parte e le mamme decidono di andare a partorire all'ospedale di rimini e questo da una parte è anche un disagio perché ovviamente partorire a rimini vuol dire poi anche fare tutte le visite sia prima che dopo il parto a rimini vuol dire comunque spostarsi ma soprattutto è anche un un costo ogni infatti ogni persona che decide di partorire fuori dal territorio regionale alla sanità regionale costa e solo per queste 200 parti comunque il costo anno è di circa 250 mila euro anno quindi io quello che chiediamo insieme alla consigliera vitri ma devo dire che è una richiesta che viene dall'intero consiglio regionale sia dalla maggioranza che dall'opposizione e sono stati presentati atti sia dal sottoscritto ma anche da altri consiglieri regionali e ritengo che questa sia sia una priorità e che vada ripristinato quanto prima appunto sia il punto nascita sia i vari reparti e anche ovviamente il pronto soccorso pediatrico la città di pesaro nella seconda città delle marche all'ospedale di pesaro fanno riferimento oltre 130 140 mila persone e penso che sia l'unico caso in italia di un copoluogo di provincia che non all'interno del proprio ospedale un ripartimento materno infantile dopo 18 anni da arcivescovo di pesaro monsignor piero coccia è pronto a congedarsi dal suo ruolo al vertice dell'arcidiocesi per raggiunti limiti d'età come previsto dalle norme canoniche vigenti è infatti previsto per domani l'annuncio del congedo da un ruolo che coccia ricopre dal febbraio 2004 così come domani dovrebbe essere annunciato il nome del successore alla carica di arcivescovo metropolita vigili del fuoco in azione questa mattina a fano attorno alle 11 30 dove si è sviluppato un rogo di bancali all'esterno della ditta gualandi ditta specializzata in prodotti informatici collocata sulla strada flaminia non lontano dallo svincolo per centinarola i vigili del fuoco hanno tempestivamente circoscritto l'incendio mettendo la l'area in sicurezza dopo i primi viaggi organizzati ieri dalla protezione civile aumentano le spedizioni di pulmini che partono da pesaro carichi di materiali verso i confini ucraini in aiuto alla popolazione sconvolta dalla guerra e si mobilitano anche le parrocchie le foto che vi mostramo ora si riferiscono in particolare ai volontari partiti oggi con una spedizione umanitaria dalla parrocchia pesarese di santa croce si avvicina la stagione estiva e conf commercio marca nord ha incontrato oggi le attività turistiche di gabbicce mare per un confronto su assunzioni agevolazioni e pagamenti rivalutazioni degli immobili normative anti covid sicurezza sul lavoro e anche caro energia a fare gli onori di casa oggi il presidente angelo serra che ha presentato la squadra locale di conf commercio gabbicce guidata da cinzia foschi alla presenza del direttore provinciale amerigo varotti dopo gabbicce la seconda conferenza sul turismo è prevista per il 30 di marzo a urbino e domani invece il gran giorno della tappa pecchio carpegna della tirreno adriatico di ciclismo la nostra provincia sarà attraversata per 206 chilometri con 21 territori comunali che vedranno il passaggio della carovana di ciclisti ma ci sono anche diversi eventi correlati uno di questi è una interessantissima mostra di picci storiche dedicata alla memoria di marco pantani e della sua presenza sul monte carpegna siamo alla vigilia dell'atteso evento ciclistico della tirreno adriatico la corsa dei due mari che arriva nella provincia di peso urbino attraversata per 206 chilometri partenza ad a pecchio domani con arrivo a carpegna a carpegna il meglio della tappa con il cippo con il monte carpegna da attraversare e prima dell'arrivo al palazzo dei principi il traguardo sarà anche accompagnato dalla storia del ciclismo in mostra come le bici che vedete qua al mio fianco questa appartenuta a marco pantani la bicicletta della mercatone 1 del 1998 un anno d'oro per il pirata assieme a questa anche le bici di artunghi e siboni gregari di marco pantani bici che al momento sono esposti qua alla italian legend bicycle di dario corsi la collezione pesarese che da domani si trasferirà per questo grande evento al palazzo dei principi di carpegna potrà essere visitata insieme alla grande mostra fotografica dedicata ai grandi ciclisti che sono transitati a carpegna in questi decenni carpegna il comune di carpegna ha voluto ricordare insieme al comune di pesaro pantani soprattutto e abbiamo voluto portare tre biciclette dalla mercatone 1 del 1998 tra cui la bicicletta originale di marco pantani in quell'anno ci ricordiamo tutti vinse il giro e il tour e non è casuale l'abbinamento c'è era questo uno dei terreni d'allenamento prediletti di marco pantani certo marco si allenava su queste sulle nostre montagne dell'entroterra e diceva sempre che bastavano per vincere il giro e il tour quindi penso che siano abbastanza dure al suo spalle il pannello di presentazione di questo evento a carpegna ci ricorda anche che pesaro è candidata finalista capitale della cultura la bicicletta rientra appieno in questo discorso culturale certo non potevamo perdere questo evento la terreno adriatico a carpegna come anche evento culturale ci saranno tanti tifosi sulla montagna a vedere i corridori che scaleranno due volte il cippo pesaro cerca in questo mese di diventare vincitrice della capitale della cultura 2024 e la bicicletta a pesaro città della bici non poteva mancare devo dire che la terreno adriatico quest'anno veramente un'importanza molto elevata soprattutto per il nostro territorio una grandissima occasione per promuovere pesaro ma tutta tutte le marche io devo dire che voglio ringraziare anche dario corsi che è una persona stupenda che nel corso di una vita è riuscito a raccogliere tantissime biciclette soprattutto biciclette di grandi campioni non potevamo perdere questa occasione gli abbiamo chiesto di portare una parte della sua collezione direttamente dal palazzo dei principi a carpegna domani quindi c'è la tappa e ha voluto anche portare omaggiare anche marco pantani portando una delle sue biciclette quella con la quale ha vinto un sacco un sacco di gare quindi lo voglio ringraziare perché mette a disposizione un patrimonio e lo rende visibile e anche perché è la prima parte anche un'opportunità per ricordare che pesa la città della bicicletta e che verrà fatto un museo dedicato alla bicicletta e sarà sicuramente basato sulla collezione di dario otto comuni altrettanti teatri della provincia e 23 spettacoli sono questi i numeri della diciottesima rassegna teatro oltre divisa tra teatro musica e danza che organizzata da amat e che inizia domani a san lorenzo in campo sarà il teatro tiberini di san lorenzo in campo ad alzare il sipario sulla diciottesima edizione di teatro oltre rassegna promossa dall'amat che mette in rete i teatri della provincia all'insegna della multidisciplinarità il primo dei 23 spettacoli proposti sarà quello con tindaro granata che propone antropolaroid il decennale primo spettacolo di un palinsesto dalla gestazione travagliata dopo i tanti ostacoli della pandemia dicevo proprio questa programmazione è quella che è stata più funestata dalle dinamiche di pandemia e di chiusure che sono conseguiti appunto allo stato d'emergenza per questo oggi un grande grande una grande gioia appunto riscoprire come come non scontato qualcosa che ci era sembrato appunto così consueto come l'abitudine di presentare ogni anno la bella rassegna che si occupa di teatro danza e musica al presente san lorenzo in campo primo degli otto comuni che con pesaro fan urbino cagli pergola san costanza urbana apparecchia un perfetto connubio fra città e teatri in sinergia all'insegna della commissione fra prosa musica e danza di questa lunga kermesse che si articola in 23 spettacoli di cui 13 sono sono nuovi eventi ex novo che presentiamo oggi appunto ex novo e 10 di essi invece sono in qualche modo la promozione la rivalorizzazione di eventi che avevamo annunciato anche l'occasione delle stagioni che erano stati già pensati come eventi di teatro oltre da san lorenzo in campo teatro oltre si trasferisce a pesaro con tre appuntamenti cantiera aperto per claudi gianfrancesco giannini il 18 marzo alla chiesa dell'annunziata e il giorno seguente allo sperimentale la musica di giancane che torna sul palco con tutto giusto tour sempre allo sperimentale il 25 marzo è la volta del desidera tour di cristina donà e del suo rock di matrice mediterranea poi la comicità surreale di flavio mastrella antonio rezza e rompe scena il 29 marzo al bramante di urbagna con io il primo aprile si torna all'annunziata di pesaro con palazzi d'oriente in collaborazione con black marmalade records ancora un atteso appuntamento musicale il 2 aprile al teatro della concordia di san costanzo con roberto angelini e rodrigo derasmo in un omaggio a nick drake con songs in a conversation dopo il debutto assoluto al teatro grande di pompei l'affermata autrice regista siciliana emma dante a proda al teatro della fortuna di fanno il 7 aprile con pupo di zucchero la festa dei morti e poi ancora in mutonia in concerto il 9 aprile al teatro angel del fuoco di pergola dopo aver infiammato palco e tavolo di x factor 2021 e poi teoria della classe disagiate di sonia antinore al teatro tiberini di san lorenzo in campo e a san costanzo disco bunker pluripremiata ps scritta diretta da marianna bianchetti e stefano mereu al teatro sanzio di urbino arriverà invece roberto mercadini con la più strana delle meraviglie monologo da e su shakespeare e poi ancora peso la musica di riff e le dialo all'annunziata e il teatro sperimentale di questo è il tempo in cui attendo la grazia del 2 maggio un maggio che continua l'insegna del teatro pastorale a cagli del concerto marta dei grandi a pesaro una pesaro dove va in scena anche la danza del focus festival e di toccare the white dance il teatro sanzio di urbino ospiterà la scuola di scenografia old at fall quello di fanno monjour di silvia gribaudi grande teatro anche a pesaro il 29 maggio con motus in tutto brucia e infine il 7 giugno l'atteso concerto pesarese dei downsell junior fino alla chiusura del 10 giugno al teatro sperimentale con pandora e il teatro dei gordi coltivare nuove generazioni di tifosi con una educazione allo sport e alla passione positiva per la squadra e questo l'intento della vl fan zone che debutterà domenica alla vitre in frigo arena nella partita della carpegna prosciutto pesaro contro la epicasa brindisi vuole fan zone vuole ricreare una zona di tifo organizzato sistematico e riconoscibile all'interno del palasport quindi l'obiettivo è questo di ricreare qualcosa di entusiasmante e di attraente all'interno del palasport che porti un tifo propositivo e positivo a favore della squadra diciamo che vogliamo creare una zona del palas dedicata a tifosi che vogliano tifare in maniera positiva per la squadra partendo molto sicuramente dai ragazzi dai giovani coadiuvati da una parte magari di persone un po' più esperte che magari hanno esperienze già precedenti con gruppi organizzati vogliamo creare una vl fan zone che abbia una presenza massiccia di ragazzini e ragazzine in età adolescenziale una sorta così di creare una nuova generazione di tifosi che abbiano come principio l'idea di fare il tifo in maniera sana molto a sostegno della propria squadra senza maleducazione e che partecipi in maniera colorata e sonora a quelli che sono poi quello che è poi l'evento della diciamo della partita questo ha sicuramente un'idea che è proiettata nel futuro anche nel futuro si possa avere una curva che qui alle mie spalle una curva dei settori k completamente piena di ragazzi che aiutano e fanno il tifo per la vl alle tessere dovrebbero essere intorno alle 130 140 al momento diciamo che il tetto massimo che ci siamo dati per il momento ovviamente poi si può rivedere la cosa è di 200 tessere in questo momento perché vogliamo una curva selezionata da un punto di vista di caratteristiche da un punto di vista di tipo di tifo che vogliamo un tifo a favore e non un tifo contro un titolo educato quindi vorremmo coinvolgere un numero di persone in questo momento diciamo limitato 200 l'obiettivo credo che nel giro di pochi giorni dovremmo arrivare all'obiettivo la card della vl fan zone avrà per questa prima parte questa ultima parte della stagione 2021 22 che quindi comprenderà le prossime sei partite avrà un costo di 10 euro quindi un costo assolutamente simbolico ovviamente sottoscrivendo questa card si avrà la possibilità di avere il diritto di prelazione per la zona che individueremo il prossimo anno come zona della fan zone e quindi in quel settore chi avrà questa card avrà uno sconto del 50 per cento sul prezzo dell'abbonamento 50 per cento comprensivo già del costo annuale della tessera che il prossimo anno sarà di 20 euro quindi per fare un esempio quest'anno il settore k per gli adulti aveva un costo di 170 euro il prossimo anno avrebbe un costo di 85 euro già comprensivo dei 20 euro della card quindi l'abbonamento avrebbe un costo effettivo di 65 euro con uno sconto di quasi 70 per cento rispetto al prezzo di botteghino stessa cosa ovviamente per gli under 18 costo di 100 euro che sarebbe un costo tutto compreso card compresa di 50 euro si conclude qui questo nostro telegiornale ma non si conclude il nostro spazio dedicato all'informazione dopo di noi infatti alle 20 è previsto il vale foglia il pian del bruscolo magazine il telegiornale di questo territorio è condotto dal nostro edoardo orazzi che vedete in grafica appuntamento alle 20 prima replica alle 23 e 15 e poi la nostra prima serata dedicata alle donne dell'afghanistan tra difesa dei diritti e perle di libertà vedrete questo speciale realizzato da roberta esperide in occasione della celebrazione della giornata della donna dello scorso 8 marzo un convegno organizzato da ente olivieri biblioteche museo liveriani assieme alla provincia di pesaro urbino appuntamento alle 21 e 20 e poi l'informazione su rossini tv torna domattina anche con la rassegna stampa buongiorno rossini come sempre in diretta alle 7 20 domani sabato 12 marzo a tenervi compagnia ci sarà il nostro antonio astuti e poi sabato 12 marzo domani anche la giornata di cui pesaro tv il nostro format in collaborazione con il comune di pesaro che ci porta alla conoscenza di tematiche specifiche del presente ma anche dei progetti prossimi delle comune l'ospite di domani con il nostro antonio astuti sarà camilla murgia assessore alla gentilezza e alla crescita appuntamento dunque domani alle 13 e 30 mentre domenica c'è l'appuntamento ormai fisso con la sante messe in diretta su rossini tv domenica 13 marzo alle ore 11 ci saremo in diretta dalla parrocchia san giovanni bosco a osteria nuova altra diretta è quella con lo sport quella delle partite dell'ital service trasmesse appunto live per quello che riguarda le gare in trasferta questa domenica 13 marzo ad appuntamento e alle 19 con la trasferta campana dell'ital service sul campo della fel di eboli e davvero dunque tanti appuntamenti da seguire in questo weekend con rossini tv rossini tv che ve lo ricordo ancora sta per traslocare sta per cambiare canale lo vedete in grafica dal 15 marzo non più il canale 633 ci trasferiremo sul canale 80 un passaggio che sarà lo ricordiamo graduale tra il 15 e il 17 marzo su tutto il territorio provinciale con questa importante informazione è davvero tutto ora ci sono le previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti